Dopo la crescita dei mesi estivi, settembre è stato un altro mese difficile per i mercati, colpiti in particolare dalle rinnovate paure inflattive e dallo spettro di un peggioramento del conflitto in Ucraina. L'unico aspetto positivo riguarda, controintuitivamente, le revisioni degli utili aziendali, che sebbene siano state decisamente riviste al ribasso, danno rassicurazioni circa le valutazioni dell'azionario, quantomeno negli Stati Uniti. Ma entriamo nel dettaglio dei dati. La performance per i principali list azionari è stata alla fine del mese, negativa. Gli Stati Uniti hanno perso circa il 9%, peggio delle controparti europee 6%. Anche l'obbligazionario non ha performato positivamente. Ancora una volta, il movimento al rialzo dei tassi ha da un lato depresso ulteriormente le valutazioni azionarie e dall'altro compromesso. La capacità dei bond di diversificare. Per la prima volta nella storia abbiamo avuto tre trimestri di fila negativi per azionario e obbligazionario contemporaneamente. Infine, l'insuccesso delle materie prime 5,5% complessivamente, con petrolio meno 10% e oro meno 2,6%. Catturale già menzionate. Paure legate alla crescita. Sai quanto paghi per i tuoi investimenti? Il controllo dei costi dovrebbe essere al centro della tua strategia di investimento. Scopri di più. La protagonista indiscussa continua ad essere l'inflazione e la sua influenza sulle mosse delle varie banche centrali, che oltre a essere in una fase del ciclo monetario diverse, devono affrontare sfide divergenti. Se negli States, l'inflazione è principalmente spinta da forte domanda e da un mercato del lavoro stabile, ieneurozona. Il problema principale è il contesto di crescita economica debole caratterizzato da un'elevata inflazione derivante però dall'aumento dei prezzi energetici, inficciando la capacità e le leve della BCE. Inflazione. Cosa aspettarsi? Evidentemente la dinamica dell'inflazione sarà fondamentale per determinare un'eventuale inversione della tendenza che ci ha accompagnato negli ultimi mesi. Se arrivassero segnali di un livello dei prezzi che si muove nella giusta direzione, i mercati potranno guardare al futuro con maggiore fiducia e focalizzarsi sulle numerose opportunità che si trovano sui mercati in termini di prezzo. Ma cosa prevediamo? Crediamo che l'inflazione comincerà ad accelerare nei prossimi mesi e che ciò possa fornire da catalizzatore alla ripresa dei mercati. Gli Stati Uniti sono probabilmente meglio posizionati per uscire da questo periodo complesso, anche a fronte di minor sfide energetiche. Rispetto a quelle in Europa, dove la geopolitica rimane un'incognita, data la volatilità e l'incertezza di breve termine, manteniamo una posizione piuttosto prudente in termini di peso azionario e asset rischiosi. Il trade-off tra valutazioni più convenienti e aspettative sugli utili a ribasso rimane fondamentale, ma in ottica di lungo termine potrebbe offrire rendimenti attesi più interessanti che negli ultimi anni. Rispetto alla scorsa decade, le obbligazioni governative offrono rendimenti a scadenza elevati. Attualmente manteniamo una duration conservativa, sia a causa dell'elevata volatilità dei tassi di interesse, sia a causa dell'appiattimento delle curve, che offrono rendimenti aggiustati per il rischio più interessanti sul breve termine. Tuttavia in un contesto di stabilizzazione dell'inflazione e di maggiori probabilità di recessione, le argomentazioni a favore di un allungamento delle scadenze cominciano a rafforzarsi. Focus obbligazionario. Il terzo trimestre è stato sicuramente uno tra i peggiori di sempre per l'obbligazionario, con il globale in perdita governativo in perdita dell'8% e UK del 14% e un meno 20% da inizio anno. Il credito sta facendo meglio, principalmente a causa della duration corta e del fatto che, sebbene la volatilità è stata elevata, gli asset rischio si hanno ottenuto. E dunque cosa aspettarsi? Alta volatilità dei tassi finché non vedremo una stabilizzazione dell'inflazione, lato credito è preferibile spostarsi verso rating più elevati per limitare il rischio spredo che potrebbe derivare da sentimenti di risk off, opportunità di guadagno. La parte a lungo della curva potrebbe sovraperformare nel momento in cui le banche centrali siano costrette a interrompere il loro ciclo monetario, prima di quanto prezzato ora, tipicamente dunque in un contesto recessivo. Tuttavia ci sono alcuni fattori da considerare, la volatilità dei tassi continua a essere troppo elevata e vediamo delle oscillazioni marcate ogni giorno. Le curve sono generalmente molto piatte, quindi in un'ottica di lungo termine il rendimento a scadenza pagato dalle obbligazioni A breve è simile a quelle a lungo, non giustificando un'esposizione al rischio duration se non in chiave speculativa. Per tali ragioni preferiamo un approccio conservativo alla duration. Equity. Le stime degli analisti prevedono ancora una crescita reale debole ma positiva per gli USA e sebbene il sentiment sia negativo, gli hard data, disoccupazione, vendite al dettaglio eccetera, continuano a essere estremamente forti. Ci troviamo infatti di fronte ad una situazione paradossale, dato economico positivo e mercati a ribasso. Tale paradosso è generato dall'incertezza inflattiva degli Stati Uniti e dalle aspettative sui tassi di interesse americani, che incidono in maniera significativa sulle valutazioni. Questo ci ricorda che per analizzare un investimento finanziario bisogna guardare ai due lati della medaglia quanti utili dividendi. Riceviamo dall'investimento, dipendente dalla crescita economica, le valutazioni dell'investimento, che dipendono da tassi di interesse. E dal premio al rischio, e dunque anche dalla politica monetaria delle banche centrali. Soffermandoci sulle valutazioni, uno SOC economico, ossia non un semplice rallentamento, potrebbe affossare l'inflazione derivante dalla crescita economica, quella preponderante in USA, e, sebbene il timing potrebbe generare un primo sell-off dell'azionario, potrebbe generare un repritching delle aspettative di politica monetaria. In un contesto invece di rallentamento economico più lento, le aspettative di tasso potrebbero stabilizzarsi, dando respiro alle valutazioni. Siamo consapevoli che rischi economici e geopolitici potrebbero generare ulteriore volatilità di breve periodo e prediligiamo di fatti una posizione conservativa del portafoglio, sottopesando gli asset rischiosi del P5 di circa il 10% rispetto al nostro target di lungo termine. Tuttavia uscire completamente dal mercato in questa fase potrebbe rivelarsi una scelta deleteria per l'investimento capitalizzandone le perdite e significherebbe rinunciare a cogliere opportunità di redditività di lungo periodo. Anche per tale ragione, in ottica di diversificazione del rischio, abbiamo preferito riposizionare l'esposizione geografica, allontanandoci dalle aree maggiormente a rischio, I e Eurozona, prediligendo regioni che dovrebbero rivelarsi più resilienti in contesto di rallentamento, piuttosto che tagliare ulteriormente asset rischiosi. Come sempre, se vuoi discutere di qualsiasi cosa relativa ai mercati finanziari o parlare del tuo portafoglio in modo più dettagliato, non esitare a metterti in contatto con il nostro team di consulenza. Torneremo tra un mese con il prossimo aggiornamento di mercato. Gli investimenti in strumenti finanziari sono soggetti alla variabilità del mercato e possono determinare la perdita, in tutto o, in parte, del capitale inizialmente investito.